Benvenuti nel canale se il video è di tuo gradimento puoi farcelo sapere con un mi piace. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donna Maria dopo essere stati in montagna, tornano a Roma. I due si concedono un momento di relax in un ristorante romano, prendendo un piatto tipico la matriciana. Edoardo pasta lunga e Antonella pasta corta. Poi si parte per la volta dell'Umbria. Ma prima Edoardo deve assicurarsi di avere con sé una scacchiere in hotel. Antonella lo prende in giro perché ora è anno 5. Edoardo confessa di non poter stare senza. A sera inizia la partita a scacchi e Edoardo vince 2 a 1. Ma anche Antonella è molto forte e fa uno scaccomatto. Antonella e Edoardo stanno sempre insieme e si lasciano solo quando Edoardo va in radio a lavorare. Hanno partecipato anche ad una festa del grande fratello, dove c'erano l'altra parte di persone che non stanno, con i tavassi ma, con i donnalisi. Ormai si sono creati due gruppi che al di fuori dalla casa del grande fratello non si frequentano più, anzi, si mandano frecciatine a distanza sui social. Canale Fabio Pecce.